Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa prima serie di Insane 96 MCP. Come potete vedere, molti di voi sapranno che questa mappa è Sky Conqueror. Ci sono i cartelli, prima non c'erano, vabbè andiamo a tradurre. Grazie per aver scaricato Sky Conqueror, ci sono cartelli su ogni isola che ti davano informazioni. Non esitate a rompere i spawner di mob se sono troppi animali, non è contro la regola. Puoi rompere tutto ciò che vuoi. Informazioni sull'isola. Ferro 4880, carbone 5538, ghiaia 0, 7 chest, ci sono più materiali vicino alla superficie. Quest'altro cartello dice, ci sono dei segreti su ogni isola. Vabbè, iniziamo a registrare. Ah, ci sono delle mod, ho installato delle mod, vabbè, la minimappa la vedete. Poi c'è la tricapitator, la tricapitator, l'aeron chest mod, somnia, e queste mi ricordo per adesso, poi nel caso vedremo. Sì, e basta, imparare e basta. Iniziamo a prendere. Iniziamo a prendere le cose. Iniziamo a prendere le cose. Non lagga per niente, anche se il mio computer fa altamente schifo. Cioè, non è il mio computer, ma è la mia scheda video. Posso fare un piccolo interno? Iniziamo a prendere la cobre. Ti ho già giocato a questa mappa un paio di volte, ma non l'ho mai finita. Mi ricordo alcune cose dove stavano nascoste, eccetera. Una cosa molto buona è Optifine, che non fa lagga per niente anche con la mia scheda video schifosa. Buono, buono, ma... Mi sono andato a prendere il carbone. Ok. E a prendere il carbone. Ma che sa, gli faccio la scala, l'acqua non viene più. Ah, sì, qua c'è una cosa nascosta. La vede, già l'ho fatta questa mappa, l'ho già registrato. Ma io molto intelligentemente, il microfono non si era attaccato e... non ho registrato l'audio sono molto intelligenti ah ma qua sotto dove trovare della red ah buono buono 63 di French queste ce le ripongiamo nel caso moriamo poi ecco qua vedete ci sono trovata dopo ci rubiamo anche la cesta va va buono ci sta qua sotto c'è qualcosa o c'è qualcuno non penso ci sia niente però no non c'è nulla vabbè dunque finiamoci sto piccone che già mi ha leggermente scassato i marroni ah forse andiamo a prenderla finiamola la malacalla scusa di qua non stava collegato non c'è non c'è non c'è ma non c'è ma non c'è ma non c'è quanto sono intelligenti jom ma c'è vanno qua sotto non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è quando si combatte a mano nuda è meglio fare i polpi critici così spendete meno un po' di più ah come vi salgo guarda siamo al fondo e merro il fondo e merro la feccia gli dram allora bon 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 c'è uno fisto piccone di legno di pietro, scusate qui veniamo a walkman allora io li vengo a prendere un po' di ferro e poi iniziamo a fare la casa anzi, anzi, anzi anzi, anzi, anzi anzi, anzi prima di fare la casa prima di andare a scavare facciamo un po' di strage non, 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 non